Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6 la settimana. In occasione della giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo, le più importanti istituzioni abruzzesi si sono incontrate a Teramo per dibattere su questi odiosi fenomeni di violenza tra i giovani. L'iniziativa è stata curata dall'assessorato alle politiche sociali della regione Abruzzo. Tra i relatori il procuratore Davide Mancini e la garante regionale per l'infanzia Maria Concetta Falivena. Ascoltiamo. Il bullismo e il cyberbullismo sono come un'onda travolgente che colpisce le categorie più fragili e più sole. Nella giornata mondiale contro il bullismo l'Abruzzo dice no a questi odiosi fenomeni di violenza e prepotenza con una serie di convegni che si svolgono a Teramo con lo scopo di fare rete tra istituzioni. Magistratura, scuola, forze dell'ordine, regione, società civile. È importante questo incontro per sensibilizzare tutte le istituzioni affinché si possa risolvere questa problematica che di giorno in giorno si amplifica, soprattutto poi il cyberbullismo sulla rete, spesso gli autori divangono nell'anoniato. La ricetta vincente inevitabilmente è data dalla rete, dall'esistenza di una coscienza civica comune in modo tale che qualunque ente, qualunque istituzione, che sia la scuola, che siano istituzioni giudiziarie, forze di polizia e poi le famiglie, si mettano insieme per contrastare questi fenomeni. Il bullismo e il cyberbullismo si combattono con progetti concreti di sensibilizzazione che puntano alla prevenzione e al contrasto della violenza tra i giovani. In Abruzzo esiste una figura istituzionale importantissima che svolge una sorveglianza attiva ed è il garante regionale per l'infanzia. Si deve partire da un discorso di analisi di una sociologia del fenomeno culturale perché oggi questo sistema nostro a livello nazionale ma a livello internazionale è andato in cortociscuito perché in effetti questi ragazzi, soprattutto post-covid, hanno delle problematiche diverse. E infatti anche quando acquisisco i dati dai nostri, ovviamente degli ospedali della regione Abruzzo abbiamo tantissime patologie dei minori con problemi proprio psicologici. Questo ci dovrebbe far capire che hanno una debolezza, una debolezza forse indotta proprio anche da noi adulti. Il suo è un impegno di una vita? 40 anni, 40 anni di incontri, assemblee, manifestazioni, cortei, spettacoli e incontri come questi nelle scuole. Una cosa che mi piace tantissimo e a cui credo tantissimo, solo nelle scuole possiamo cambiare il nostro paese, solo nelle scuole possiamo ancora fare vera informazione e spiegare ai ragazzi quanto sia grave e quanto sia importante, quindi provare a fermare questo fenomeno, questa onda tumultuosa che è il bullismo che sta travolgendo molte e soprattutto le classi più fragili. In attesa dell'incontro con il governatore Marsilio si è svolto un consiglio comunale straordinario a San Giovanni Teatino dove è stata lanciata la proposta per modificare il progetto di ferrovie italiane, interrare la linea ferroviaria. Il progetto di ferrovie dello Stato per il raddoppio della linea Pescara-Roma va rivisto. È stato il parere unanime dei sindaci, dei parlamentari e così dei consiglieri regionali intervenuti ieri al consiglio comunale straordinario indetto dal sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che ha ribadito l'importanza dell'opera del raddoppiamento ma vanno apportate variazioni al progetto. Quest'opera è da fare, è un'opera indispensabile, ma è un'opera che ha bisogno di modifiche, modifiche sostanziali. Oggi con l'interramento il problema è risolvibile perché si ricreerebbe una vivibilità diversa, si andrebbe ad avere un po' in qualche modo il riscatto di quelle che fin adesso abbiamo avuto. Dico interramento non perché l'ho sognato di notte, ma ne abbiamo parlato anche con il ferrovie dello Stato, abbiamo parlato molto tempo fa, parli di qualche anno fa, poi l'abbiamo inserito anche nel nostro piano regolatore nel 2016, l'abbiamo discusso con l'allora governatore D'Alfonso che venne qui nella nostra sala, portò esponenti del ferrovie dello Stato, ingegneri, tutti quelli che potevano valutare questa cosa. Nessun di loro ha detto che il progetto non si può realizzare. Unità di vedute straordinaria che vede tutti d'accordo sulle modifiche, ha sottolineato il sindaco di Chieti Diego Ferrara, presente insieme ai sindaci di Scafa, Manoppello e vice sindaco di Pescara. La regione dal canto suo avrà un'interlocuzione centrale. La proposta che io avanzo al governo regionale è che a coordinare questo tavolo sia il direttore generale della regione Abruzzo, che per anni è stata dirigente, amministratrice delegata, direttore generale proprio delle ferrovie italiane. e a maggior ragione può garantire quel necessario tempo, luogo, momento di confronto tra comitati, amministrazioni comunali, le province, la regione, il ministero e una società così importante partecipata dallo Stato. Sul finire del Consiglio prende la parola il presidente del comitato intercomunale Comfer, Antonio Bianchi, che rispondendo al governatore Marsilio ribadisce l'utilità della infrastruttura, così come la necessità di spostare la tratta interporto-scafa come già previsto in altri progetti. Stessa soluzione auspicata dal sindaco di Manopello, Giorgio De Luca. Di realizzare questa variante all'interno dell'interporto perché è una logica, cioè non possiamo far sì che uno scalomerci quali l'interporto non abbia una ferrovia diretta. Attualmente è stato realizzato il primo tratto che viene da chi di scalo verso l'interporto, ma da Roma venire verso l'interporto non c'è, quindi il treno andrebbe a chiedi e farebbe marcia indietro. Parliamo di alta velocità di tutti questi fondi messi a disposizione e poi si arriva nel ridicolo che non si deve fare avanti e indietro su una stessa tratta. Noi chiederemo e ribadiremo che questo progetto esiste e quello che è grave non è stato preso come alternativa, così come la legge prevede, perché la legge numero 77 dell'estate 2021 prevede che ci devono essere progetti alternativi. Questo qui già realizzato sempre dall'RFI non è stato preso in considerazione, tra l'altro è più vantaggioso, è più economico, è più sostenibile e non spacca in due manoppello. E l'onorevole Camillo D'Alessandro mette palla al centro ricordando che ora il commissario e lo Stato, in questo caso il Governo, deve prendere atto di alcune esigenze che sono oggettivamente risolvibili. In attesa dell'incontro di ferrovie italiane con il commissario Macello, previsto per domani, oggi pomeriggio si attende il confronto con il Presidente della Regione, Marsilio. La nuova rigenerazione urbana della città di Pescara passa anche dal nuovo porto di Pescara. Delle nuove opportunità si è parlato presso l'Ex Aurum in un convegno dal titolo Nuovo porto di Pescara e il Waterfront. Vediamo. ConfCommercio, unitamente ad esperti del mondo dell'Università e dell'Economia, oltre ad esponenti politici e delle istituzioni, hanno affrontato il tema del nuovo porto di Pescara. Tra le opere da riqualificare, le banchine, le case dei pescatori e il nuovo asse attrezzato che andrà a collegarsi direttamente con il porto. Tutto questo, se va pensato, va pensato soltanto in forma unilaterale, io credo che debba essere pensato tra più attori. Per realizzare questo c'è bisogno di capacità, di conoscenza sui Waterfront che hanno fatto in altre città. Vedi il Waterfront di Palermo, vedi il Waterfront di Genova, vedi il Waterfront di Pantelleria. Quindi ci sono esperienze in passato che hanno dato lustro. Certamente una rigenerazione urbana fatta con le dovute opportunità riconquista anche il territorio sotto l'aspetto delle imprese. Ecco perché ConfCommercio oggi è presente. Il Waterfront è la nuova era delle città sul mare e l'occasione per la realizzazione potrebbe venire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una volta costruito il porto noi avremo i collegamenti con la Croazza e chiaramente al ridosso del porto ci saranno infrastrutture alberghiere, recettive, commerciale. Basta che uno arrivi in vacanza, scende davanti a un porto e si rende conto che appena si sbarca. Il nostro porto purtroppo da dieci anni vuoi per l'intragaggio, vuoi perché c'è stata poca attenzione, è fermo e sta diventando un ghetto. Invece dovrebbe essere un fiore d'occhiello per la città di Pescara. La notizia che vede già pronto il piano per ripristinare i collegamenti con la Croazia a partire dalla prossima estate lascia ben presagire, ma al contempo non si possono chiudere gli occhi a quelle che sono le problematiche dovute all'insabbiamento. Questo è un problema oramai annoso per il nostro fiume, per la nostra città. Un porto statale che da troppo tempo è chiuso perché è stato trascurato dal livello nazionale. Ci siamo rimboccati le maniche per dare un aiuto alla marineria, quindi abbiamo fatto la gara, siamo lì per fare gli interventi, ma sul porto la situazione si chiuderà nel momento in cui finalmente si collegherà il molo nord alla diga foranea, si collegherà il molo sud alla diga foranea in modo da permettere un'uscita diretta del fiume verso il mare. I lavori svolti negli anni precedenti hanno portato la provincia di Teramo ad essere tra le migliori in Italia per quando riguarda lo spreco di acqua. La Ruzzo Reti, nonostante un inverno seco, si dice fiducioso per la prossima estate. Vediamo. Non c'è solo l'emergenza Covid a determinare grande preoccupazione per le zone rosse e così anche per le disponibilità idriche negativamente condizionate da un inverno fino a Ravaro di significative precipitazioni. La carenza idrica del 2021 in Abruzzo è un effetto combinato del riscaldamento globale che sta di anno in anno prosciugando i fiumi e della dispersione d'acqua. Si parla del 55,6% riferito al 2018 causata da una rete cola a brodo cui non si è provveduto nell'ultimo trentennio. E se le province di Chieti e Pescara hanno pagato a caro prezzo, addirittura fino ai primi mesi attunnali, la crisi idrica decisamente meglio è andato per la provincia di Tenomo. Uno studio di confartigianato la posta tra le 15 migliori province italiane con il 27,3% di perdite idriche e tecniche rispetto al 42% della media nazionale. Un risultato possibile grazie agli investimenti mirati che la governance della Ruzzo Reti ha messo in atto negli ultimi anni e che aumenta la fiducia in vista della prossima stagione estiva. Fortunatamente gli investimenti che noi abbiamo fatto sul territorio per quanto riguarda l'acquedotto ci hanno supportato lo scorso anno a gestire una situazione veramente molto pesante infatti la provincia di Tenomo è quella che forse ha sofferto di meno di quelle che hanno anche la costa e quindi l'aspetto marittimo per cui il turismo. Quest'anno ci auguriamo di essere sempre allo stesso livello dato che gli investimenti sono aumentati e noi abbiamo il potabilizzatore che riusciamo di Montori Alvomano che è un grande aiuto che ultimamente porta circa 800 litri d'acqua al secondo quindi è di grande supporto il Gran Sasso con tutta la gestione che ne connette quindi siamo abbastanza fiduciosi. Certo è che è stato un inverno particolarmente duro sotto questo profilo perché è piovuto pochissimo almeno fino ad ora. Giovedì 10 febbraio si è celebrata la giornata del ricordo per commemorare le vittime delle foibe. Anche in Abruzzo si sono svolte manifestazioni in diverse città. Vediamo quella di Pescara alla quale hanno partecipato anche altri comuni della provincia. Ascoltiamo. L'amministrazione comunale di Pescara, la provincia, i comuni di Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Scafa, Moscufo, Nocciano, Picciano, Civitacuana, Santo Femia, Maiella hanno celebrato a una sola voce il giorno del ricordo per onorare questa mattina congiuntamente la memoria degli italiani caduti sull'altra sponda dell'Adriatico e quelli costretti all'esilio durante e dopo la seconda guerra mondiale e per dire no a revisionismi e negazionismi su una tragedia nazionale e umanitaria. Oggi questa manifestazione vuole intanto essere un segnale importante. Purtroppo il Covid ha dovuto interrompere un percorso che si era iniziato negli anni anche all'interno delle scuole ma appena la situazione sarà di nuovo normale faremo in modo tutti i comuni e anche la provincia di veicolare il messaggio di pace e contrario a questi che sono accadimenti che non dovranno mai più ripetersi. Purtroppo si sente ancora di qualche soggetto che vuole negare e ritrattare e questo sicuramente non è un qualcosa di positivo. Quello che invece bisogna fare durante queste giornate è ricordare essere più uniti che mai affinché queste giornate siano da monito perché certe situazioni, certi episodi non accadano più. Solo 14 perché poi oltre ai loghi dei comuni presenti sulla locandina a questi comuni si sono aggiunti altri comuni quindi c'è stata un'adesione importante, segno di un significato importante che tutti i comuni e tutto il territorio pescarese ha voluto dare a questa giornata. La ricostruzione nel cratere del centro Italia ha subito un'importante accelerazione. All'Aquila Marsilio ha fatto il bilancio da quando è stato eleto. Entro fine mandato completeremo tutte le pratiche, ha dichiarato il governatore. Ascoltiamo. 1.400 cantieri autorizzati e 250 milioni di euro erogati. Questi i numeri della ricostruzione in Abruzzo nel cratere del sisma che tra il 2016 e il 2017 sconvolse il centro Italia. Ieri all'Aquila insieme al direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione Vincenzo Rivera il presidente Marsilio ha fatto il bilancio dei primi tre anni di governo. Ricordo che quando all'inizio del 2019 è iniziato il mio mandato nei due anni precedenti erano stati fatti non più di una cinquantina di decreti. Già nell'anno 2019 abbiamo triplicato quel numero, l'anno successivo abbiamo ulteriormente raddoppiato. Quest'anno abbiamo realizzato un numero di oltre 850, vuol dire che abbiamo fatto cinque volte tanto quello che si faceva al ritmo precedente. Il 2021 rispetto all'anno precedente ha visto un incremento del 256% di pratiche approvate e ammesse al finanziamento. In totale finora sono state 3 su 5 quelle approvate, pari a oltre 3.700, altre 4.000 sono attese nei prossimi mesi. Tra le quattro regioni coinvolte dal terremoto l'Abruzzo da ultimo ha superato il Lazio per numero di domande approvate. Umbria e Marche sono rispettivamente al primo e al secondo posto di questa classifica e perché siamo ancora destinatari del solo 10% della quota di riparto, ha detto Marsilio. La quota però è stata aumentata per quanto concerne il personale. Se nel 2019 i dipendenti dell'ufficio per la ricostruzione erano 18, oggi ne sono 96. Ora attendiamo che la ripartizione sia anche per le altre spese, ha commentato il direttore Rivera. Con dati alla mano in questi anni abbiamo dimostrato che quella quota era sottodimensionata, abbiamo ottenuto per ora nel personale una maggiore dotazione. Attendiamo che questa quota percentuale di riparto venga applicata anche a tutte le altre spese. A 5 anni dal sisma, da oggi sul sito dell'USR è attiva la piattaforma che permette di seguire in tempo reale l'avanzamento delle pratiche dei cantieri. L'accelerazione è data, oltre che da una maggiore pianta organica, anche dalle semplificazioni introdotte dai decreti sblocca cantieri e rilancio e dalle ordinanze del commissario Lennini. Queste due fatti specie, queste due circostanze hanno portato oggi a un volume di decreti che pare a 20 volte quello del 2018. Entro fine mandato, cioè il 2024, adempiremo a tutte le pratiche, ha promesso Marsilio. Entro la fine del mandato noi avremmo, come dire, esaurito tutte le pratiche e messo in piedi una ricostruzione reale e concreta del nostro territorio. Rivera invece è più cauto. Il tempo c'è, ma dipenderà dalla risposta del territorio, ha dichiarato il direttore al TG6. Il deputato leghista ex 5 Stelle, Antonio Zennaro, ha incontrato il nuovo prefetto di Teramo, Massimo Zanni. Serve più polizia, ha detto il leghista. Abbiamo fatto questo incontro con il nuovo prefetto di Teramo sul tema della sicurezza nella città di Teramo, un tema sentito da tanti cittadini teramani perché negli ultimi mesi ci sono stati tanti furti, ci sono stati scontri anche tra bande giovanili. Siamo al lavoro come lega a tutti i livelli anche per potenziare il lavoro che oggi fanno in maniera straordinaria gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, però servono più uomini e più mezzi per garantire un maggiore presidio sul territorio della città di Teramo. Siamo stati anche attaccati dal sindaco d'Alberto, ma non siamo qui per fare polemica, ma per rispondere a un'esigenza molto sentita dai cittadini teramani. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità, l'Abruzzo resta in zona arancione perché i dati Covid sono arrivati in ritardo. Scendono le ospedalizzazioni in terapia intensiva, ma l'occupazione in area medica è la più alta d'Italia. Intanto, in base ai campioni dei test molecolari analizzati, in Abruzzo ora esiste esclusivamente la variante Omicron. L'Abruzzo ha i numeri da zona gialla, ma resta in arancione per la scarsa efficienza del sistema di monitoraggio e quanto emerso dal rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'analisi dei numeri della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio. Seppur attualmente il tasso d'occupazione ospedaliero è in area medica il più alto d'Italia, oltre il 37%, in terapia intensiva è in discesa al 15,6%, ben al di sotto della soglia limite del 20%. Il motivo di un'altra settimana di zona arancione è che i dati regionali sono arrivati in ritardo. Per l'Istituto Superiore di Sanità il rischio in Abruzzo non è valutabile e quindi di default è equiparabile al rischio alto. Allo stesso livello ci sono anche Calabria, Liguria e Sicilia. La Sardegna è a rischio moderato, mentre tutte le altre regioni sono considerate a rischio basso. Ad oggi in Abruzzo di Covid esiste solo quello Omicron. La nostra è tra le 11 regioni dove questa variante ha un'incidenza del 100%, mentre quella delta è scomparsa. Omicron, come ritengono gli esperti, è super contagiosa, ma ha una sintomatologia meno aggressiva, tant'è che alcuni si sbilanciano sostenendosi all'ultima fase della pandemia. L'elaborazione della Fondazione Gimbe sui dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornata all'8 febbraio, sembra confermare questa valutazione. Infatti la situazione nelle terapie non intensive degli ospedali desta preoccupazione, ma i ricoveri nelle rianimazioni sono sempre meno. Ovviamente però contro lo sviluppo della malattia bisogna tener conto anche dei numeri della campagna vaccinale. Il 60,5% degli abruzzesi ha ricevuto la terza dose, mentre vi è ancora un 16% no-vax o non idoneo. In Abruzzo l'indice di trasmissibilità RT è a 1,04, la media nazionale è a 0,89. Da ieri è iniziato il percorso deciso dal governo Draghi riguardo l'allentamento delle restrizioni, che terminerà il 15 giugno con la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Il giro di Boa sarà il 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza e cadrà l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso. Da ieri intanto le mascherine possono non essere indossate all'aperto e questo sarà il primo weekend in cui si potrà tornare a ballare in discoteca. La capienza però è ridotta, al 75% per le discoteche all'aperto, al 50% per quelle al chiuso. E ora cambiamo argomento e parliamo di calcio. Continua la marcia di avvicinamento del Pescara al match con la Reggiana. Mancherà l'attaccante Cernigoi, mentre è in dubbio il centrocampista Pompeti. Sarà quasi certamente un Pescara con qualche assenza di troppo, quello che lunedì sera sfiderà la Reggiana al Mapei Stadium, al contrario di alcune erose previsioni di inizio settimana. Va verso il forfe l'attaccante Jacopo Cernigoi, che ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e da tre giorni non si allena. Il giocatore, proveniente dal Seregno, domenica era stato titolare contro il gubbio, la sua seconda presenza dopo quella con la carrarese da subentrato. Ma se questa assenza si sentirà di meno, perché Auteri ridarà una maglia da titolare al cannoniere Ferrari? Un po' di apprezzione c'è per le condizioni di Marco Pompetti, autentico faro del gioco biancazzurro. La sua presenza al Mapei Stadium è tutt'altro che scontata. Mancherà ancora Memuschai per il problema alla caviglia? Così Auteri avrà come punto fisso del centrocampo Pontisso. Al suo fianco, se Pompetti non ce la dovesse fare, ci sarà un balottaggio tra Derisio e Diambo. Molto dipenderà dalle condizioni dell'ex Baire Catanzaro, che è tornato ad allenarsi questa settimana dopo dieci giorni high box per il Covid. Altre condizioni da valutare sono quelle di Ingrosso e delle Monache, anche loro non al massimo. La rosa comunque è profonda e per Auteri c'è la possibilità di schierare un 11 competitivo a partire da un attacco che sta trovando regolarmente la via del gol, nel quale Clemenza è favorito su Dursi per completare il tridente con Ferrari e Rauti. In difesa Auteri potrebbe riproporre il Bebbi Veroli al posto di Ianes oppure confermare il trio visto contro il Gubbio. Sul fronte Reggiana, l'esperto portiere Giacomo Venturi non dispera per il sorpasso in vetta subito dal Modena e conta di poter riprendere al più presto il primo posto. Pescara è la prima di 14 finali, dice, e sul match di lunedì, intervistato da tuttoregiana.com, aggiunge. Se il dente avvenuto loro ce l'hanno dall'andata, noi ce l'abbiamo ancora dall'anno scorso, quindi sicuramente sarà una partita importante, una partita come tutte le altre, perché sicuramente varrà per i tre punti che noi cercheremo con tutte le forze di portare a casa, e non sottovalutando nessuno, tantomeno il Pescara, perché è una squadra attrezzata per altri obiettivi che probabilmente adesso ha, diciamo, in rotta, cambiato questa cosa qui e avrà forse la mente un po' libera perché la vetta è molto staccata, però insomma le insidie sono sempre dietro l'angolo come lo erano a Carrara e infatti si è visto, ma lunedì sono convinto che la Reggiana sfonderà una grandissima partita. Questo pomeriggio Teramo impegnato a Viterbo alle ore 14.30, la prima di tre partite in una settimana. Il Diavolo infatti mercoledì riceverà la Pistoiese e chiuderà domenica prossima a Gubbio. Vediamo. Continuità nelle prestazioni, quella che chiede Federico Guidi al suo Teramo all'inizio di un trittico di partite ravvicinate. Si parte domani pomeriggio con la trasferta di Viterbo, poi l'infrasettimanale con la Pistoiese e infine un'altra trasferta al Barbetti di Gubbio. È chiaro che non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso a Imola, dove abbiamo avuto un atteggiamento passivo al di là del gol preso al 94esimo. Poi nelle altre tre partite, bene o male con Pesaro e Lucchese, l'atteggiamento non è mancato, come non è mancato a Siena, dove la prestazione meritava sicuramente di portare via da Siena per lo meno un punto. Quindi dobbiamo continuare così perché ormai mancano 14 partite e come vi dissi l'altra settimana sono 14 finali per chi vuole salvarsi. Aggregato al gruppo Biancorosso anche l'ultimo arrivato, Simone Jacoponi, rinforzo che chiude un mercato molto ampio del Diavolo e sarà una pedina fondamentale per la retroguardia del Teramo. Ha svolto solamente la rifinitura stamani e quindi è una cosa che valuteremo fino all'ultimo secondo perché dobbiamo anche tenere in considerazione il fatto che giocheremo sei partite in due settimane e quindi è chiaro che dobbiamo anche scentellinare un po' le forze, tenendo anche in considerazione il fatto che Simone non gioca praticamente da marzo scorso e quindi valuteremo. È chiaro che è una partita importante, Simone è un valore assoluto, questo è indiscutibile e quindi ci prendiamo tutto il tempo per decidere il da farsi. Per quanto riguarda la formazione si va verso la conferma del 4-3 a centrocampo, giochere a Rossetti lo ha detto anche il tecnico Biancorosso in conferenza stampa con Arrigoni e Fiorani davanti il tridente con Bernardotto o D'Andrea al centro e poi i due esterni d'attacco. Ma domani è una partita difficilissima. La Viterbese ha chiuso il girone d'andata in fondo alla classifica ma è perché di quell'annata è quando magari le cose ti vanno tutte male e magari un gruppo non riesce a esprimere il massimo del proprio valore. Quella era una squadra che era costruita per fare tranquillamente i play-off e a gennaio ha fatto un mercato, anche a detta di tutti gli addetti ai lavori, estremamente importanti perché hanno inserito giocatori estremamente esperti come Fumagalli, Semenzato, Mungo, hanno preso Bianchimano davanti, Ricci, quindi hanno messo tantissima esperienza, giocatori di spessore. Sarà una partita complicata peraltro contro la formazione che ha colto nel mercato di gennaio Domenico Mungo, il grande ex della gara del Rocchi. Guidi non ci pensa, pensa soprattutto a riportare a casa un risultato positivo. Mimmo non l'ho più sentito e lo rivedremo domani da avversario e quindi poi ci pensiamo al novantesimo magari a salutarci perché domani è una partita che in chiave salvezza, è una partita che conta tanto. E con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.